Cuore Selvaggio è un film del 1990 scritto e diretto da David Lynch ed è basato sul romanzo del 1989, omonimo, di Barry Gifford. Allora, di che cosa stiamo parlando questa volta? David Lynch, dopo averci affascinato con il noir che è stato Velluto Blu, il neo-noir che è stato Velluto Blu, ci porta invece in un road movie. Di fatto questo è un road movie e al tempo stesso è una, diciamo, black comedy romantica, ma anche un crime movie e in qualche modo, di nuovo, c'è la metafora. C'è la metafora, c'è il grottesco, il surreale, insomma, tutti gli elementi tipici dei film di Lynch. Abbiamo due protagonisti assoluti, che sono Nicolas Cage e Laura Dern, che interpretano rispettivamente Sailor, uno scapezzocollo, se vogliamo, un mezzo delinquente che finisce in prigione all'inizio del film e ritrova la sua amata, Luna, interpretata da Laura Dern, già vista nell'universo linciano cinematografico in Velluto Blu. E che cosa succede? Abbiamo questa passione travolgente fra questi due personaggi, questi due personaggi che non fanno altro che viaggiare, che scopare, che andare ovunque li porta il cuore, fondamentalmente, in questo mondo senza una meta, in realtà, fondamentalmente, vivendosi al massimo l'uno, l'altra e viceversa. Antagonista, se vogliamo, antagonisti di questa loro unione, di questo loro amore così appassionante e passionale, sono soprattutto la madre di lei, madre di lei che è interpretata da Diane Ladd, che fra l'altro, manco a fare la posta, è realmente, in realtà, la madre di Laura Dern, e che è stata lei, per certi versi, a portare all'inizio il nostro delinquente del cuore, Nicolas Cage, in galera. Perché questo? Perché aveva soldato un killer per ammazzarlo e allora cosa è successo? Sailor, in un moto di violenza che contraddistingue un po' tutto il film, non soltanto la violenza eventuale che lui è in grado di generare, ma tutta la violenza è particolarmente sanguinaria, il limite dello splatter, anzi, in realtà, a volte il limite dello splatter lo valichiamo abbondantemente in questo film. Cosa abbiamo? Abbiamo questo sailor che sfascia la testa a uno e quindi finisce in prigione. E una volta liberato, dopo circa 22 mesi, se non ricordo male, ritrova la sua luna e comincia quindi la nostra storia. La madre, però, continuamente ossessionata, psicotica, da questo amore che non sa da fare, cosa fa allora? Ingaggia rispettivamente un detective, un detective privato, per cercare di portare la figlia e, parallelamente, ingaggia anche un ex datore di lavoro, un ex datore di lavoro del personaggio di Cage, che è una sorta di signore della droga, fondamentalmente. Cosa accade, allora? Accade che questo signore della droga, però, fa fuori il detective e, di fatto, non andrà mai, realmente, alla ricerca del suo ex sottoposto. Abbiamo un viaggio, abbiamo il viaggio di questi due personaggi, il personaggio di Sailor e il personaggio di Lula, che, a poco a poco, realizzano sempre di più di come questa loro passione travolgente sia per certi versi quella che gli tiene a galla in un mondo selvaggio. Questo mondo selvaggio, assolutamente violento, che li vuole ostacolare a tutti i costi. La storia andrà avanti, ci sarà violenza, ci saranno personaggi grotteschi che appariranno, più o meno reali, chi può dirlo, in realtà in un film di Lynch è sempre un po' difficile definire per bene chi è reale e chi no. E poi cosa? Abbiamo, come detto, violenza, abbiamo sangue anche, abbiamo cattivi presagi, cattivi presagi che sono rappresentati da un incidente, da una vittima di questo incidente che gli muore fra le braccia, letteralmente, al personaggio di Sailor e che da lì in poi aprirà tutta quanta una discesa in un mondo ancora peggiore di quello in cui si trovano i protagonisti, un mondo fatto di disgrazia, per certi versi, disgrazia dalla quale il personaggio di Sailor penserà di riuscire a venire fuori con un crimine che però lo riporterà in gattabuia, questa volta per tanti anni, e che alla fine, comunque, malgrado tutto, ci sarà il ricongiungimento iniziale, solo parziale inizialmente e poi definitivo, dopo un'allucinazione, una visione, per chi può dire, un'ispirazione, e alla fine abbiamo un lieto fine. Abbiamo un lieto fine con, finalmente, il personaggio di Sailor che ha trovato la sua strada per la felicità, e allo stesso tempo il personaggio di Lula che, finalmente, non più influenzata definitivamente dalla madre, non più succubi, diciamo, delle sue reticenze, ha la possibilità anche lei di avere il suo lieto fine con la sua, né relativamente dolce, ma sicuramente selvaggia, metà. Che descrizione del cavolo! Ma andiamo avanti! Questo film è, come tutte le opere, in realtà, che ho visto almeno finora di Lynch, grottesco e surreale. Grottesco e surreale, questi due elementi, sono qui, così, presenti in questo film, anche perché Lynch ha voluto affondare le parti, le radici di questo immaginario che viene mostrato nel film in un altro lavoro completamente differente che non ne appartiene, ovvero sia il mago di Oz. Il mago di Oz, lui è un grande appassionato del mago di Oz, e fra l'altro io adesso sto leggendo un libro, che è una sorta di bibliografia di Lynch che ha appena citato il fatto di questa passione per Lynch e per il mago di Oz, il film del 39, e difatti tutto quanto il film è in qualche modo tempestato di citazioni al mago di Oz dalle scappette di cristallo, d'argento, di rubino, a seconda della traduzione, dell'edizione del romanzo, o comunque della trasposizione, della storia, e addirittura abbiamo che cosa? Abbiamo streghe, abbiamo streghe che sono metafore, se vogliamo, di questa malvagità che vuole bloccare i nostri eroi o anti-eroi, se vogliamo, e poi cosa abbiamo? Abbiamo, beh, i personaggi grotteschi che in realtà forse sono i più reali per certi versi, soprattutto in un'America sconfinata come quella che viene mostrata in questo film, praticamente qualsiasi tipo di personaggio potrebbe incontrarsi lungo il viaggio on the road. E poi abbiamo che cosa? Abbiamo anche, alla fine, la realizzazione, la realizzazione finale simboleggiata, se vogliamo, della strega bianca, la strega buona, perdon, la strega bianca di Fantagero, la strega buona Glinda, se non sbaglio, era nella versione originale, e abbiamo che cosa? Quindi abbiamo un ennesimo film, in qualche modo, metaforico. Per dire tutto questo, devo aggiungere però un'altra cosa, ovvero sia, a me personalmente, questo film non è piaciuto molto. O meglio, non è che non mi è piaciuto, ho apprezzato quello che ho visto, però non mi ha preso, è una cosa personale. Personalmente, preferisco che il... il metaforico, se vogliamo, sia un pochettino meno... non dico nascosto, però quantomeno preferirei che fosse un pochettino più forse presentato dopo, se vogliamo. Ho preferito una presentazione della metafora, e allo stesso tempo dell'oscurità di questo mondo, del mondo di Lynch soprattutto, l'ho preferita quando mi è stata presentata in maniera un pochettino più lenta e dosata a seconda del momento della narrazione. Invece, qui, questo film, questo film on the road, selvaggiamente, come vuole il titolo, mi racconta da subito quali sono tutti quanti gli elementi che caratterizzeranno questa pellicola. questo, forse, per il mio gusto e la mia capacità in qualche modo di allinearmi alle corde per dei film di Lynch, forse mi ha un pochettino tagliato le gambe, dal punto di vista del poter apprezzare realmente quanto ho visto. O meglio, apprezzare completamente quello che ho visto. Ho comunque apprezzato diverse cose, ho apprezzato alcune cose molto nerd, se vogliamo, ovvero sia il ricorso a due attrici, ma in realtà anche a altri attori dell'universo cinematografico linciano, se vogliamo, delle passate produzioni, che poi sarebbero anche tornati successivamente, ma rimanevano le due attrici. Ho apprezzato principalmente due attrici che poi avrebbero continuato a collaborare con Lynch successivamente, ma che avevano da poco girato un film pilota, un film pilota, una puntata pilota, un episodio pilota, forse un certo pilot eventualmente riferito a livello internazionale come passaggio al nord-ovest. Sto parlando ovviamente della prima puntata della mia cara Twin Peaks e sto parlando delle meravigliose ragazze dell'incidente, Cheryl Fenn, meravigliosa come al solito, ma anche l'altrettanto meravigliosa Cheryl Lee, che interpreta la strega buona in questo film. Sono però altri, come ho detto, i personaggi che compaiono e che compariranno in Twin Peaks, così come in altri lavori di Lynch, e sarà per un appassionato dei lavori di Lynch o per un appassionato di Twin Peaks, un piacere andarsi a vedere tutti quanti, non dico i camei, ma le, diciamo, i casteri correnti. Per il resto cosa devo dirvi? Questo film, malgrado, come ho detto, non mi abbia appassionato come altri lavori di Lynch, comunque l'ho apprezzato, ha una messa in opera secondo me assolutamente suggestiva, e quindi cosa? E quindi sento tutto sommato, anche se magari non troppo selvaggiamente, di poter consigliare questo film, Cuore Selvaggio. Cuore Selvaggio, che sicuramente è una visione che può essere interessante, anche se forse un pochettino meno popolare di altri lavori che posso aver visto di Lynch in questo mio percorso di recupero delle opere di Lynch, sto alludendo sicuramente a Elephant Man, ma anche Belluto Blu, se vogliamo, già Eraserhead forse è ancora più criptico rispetto a questo qua, e con un pubblico ancora un pochettino più ristretto, se vogliamo, però a parte quello, sicuramente invece per gli amanti del buon David Lynch questa è sicuramente una visione da, qualora per qualche motivo che mi sfugge sia stata perduta finora, assolutamente questa è una visione assolutamente obbligatoria, soprattutto perché con questo film Lynch ha avuto la possibilità di affondare le mani dell'immaginario del mago di Oz che tanto gli è familiare e tanto gli è caro, e quindi assolutamente anche soltanto per vedere il buon Lynch che si diverte a usare le cose che più gli piacciono, questo film è assolutamente da rivedere, per cui nel caso non l'aviate visto recuperatevelo.